È una bomba? Sì, bagnati i piedi e prendi. Il poliziotto sei tu. Sì, ma Simon ha detto che mi devi aiutare. Infatti ti aiuto. E allora che cosa aspetti? Che tu vada a prendere la bomba. Scedenti. Attento. Sto già attento. Non aprirla. Perché? La devo aprire. Cosa vuoi che succeda? Sono una bomba, mi hai appena immiscata. Ecco, hai visto? Te l'avevo detto che era meglio non aprirla. Avete ricevuto il messaggio? Ha un rilevatore di prossimità. Per favore, non vi conviene scappare. Va bene, ma solo perché sei tu. Senti, come si disattiva? Sulla fontana dovrebbero esserci due taliputti. Le vedete? Una da cinque galloni e una da tre. Riempitene una con quattro galloni esatti d'acqua. Pesatela sulla bilancia e il timer si fermerà. Mi raccomando la precisione. Pochi grammi in più o in meno e l'ordigno esploderà. Se fra cinque minuti sarete ancora vivi, ci risentiremo. No, smetta! Ci hai capito niente, tu? No.